Amici è sempre un vero piacere portare nelle vostre case direttamente la gamma Ford, Ford che è rappresentata a Torino da oltre 50 anni dalla vostra concessionaria di fiducia Autos con ben 5 sedi su tutto il territorio piemontese. Al mio fianco, come sempre con piacere, rivedo Mirko Trapani. Ciao, ben ritrovato. Ciao Palma e ciao a tutti quanti voi. E come dicevamo, sono ben 5 le sedi dove potrete acquistare facilmente la vostra Ford. Oggi trasmettiamo dalla sede di Moncalieri, è una sede particolare, sede speciale, Centro Ford Store, uno dei rarissimi centri Ford Store in Italia e quindi è doveroso ricordare l'indirizzo e come raggiungerla. Corso sono la 39 a Moncalieri ed è raggiungibile dalla tangenziale uscita a Moncalieri. Facilmente raggiungibile il centro Ford Store Autos dove potrete ammirare la gamma Ford. Tutti i modelli in pronta consegna, dalla più piccolina alla K-Plus, al SUV più gettonato, il Ford Cougar. Tutti i modelli sono stati progettati per darvi comodità, funzionalità ma soprattutto innovazione. Innovazione che troviamo anche in tutte le formule di pagamento agevolate per farvi acquistare la vostra Ford facilmente e soprattutto questo mese, nei mesi estivi, tantissime formule a voi dedicate. Vi ricordo Ford Fiesta a 9.950 euro con Idea Ford, quindi venite a scegliere la vostra Fiesta, ricordo Idea Ford a un tasso del 3,95, veramente molto conveniente e venite soprattutto a provare tutta l'intera gamma, potete accedere sia al nostro sito autos.it che sulle nostre pagine di Facebook per notare un test drive, tutto per voi. Bene, il test drive è d'obbligo prima di acquistare una qualsiasi vettura per testare su strada le ottime qualità e prestazioni, per trovare la Ford che più si dice alla vostra personalità e alle vostre esigenze. I vantaggi esclusivi naturalmente non si fermano al nuovo ma anche all'usato. Sapete che da autos potrete trovare uno dei piazzali più forniti e più ricchi per quanto riguarda l'usato, usato che racchiude tantissime vetture, anche le vetture di casa Ford, le famose DOC 03, mai visto un usato così nuovo? Mi ricordo le nostre vetture aziendali di casa Ford, quindi dalle C-Max alle Focus abbiamo veramente tutta la gamma di vetture aziendali con garanzia ufficiale Ford fino a 5 anni o 100.000 km e non solo, vedrete delle bellissime novità dei chilometri zero multimarca e vetture aziendali multimarca. Allora io direi di non perdere altro tempo, Mirko, io ti cederei il microfono per guidarci nelle fantastiche proposte firmate autos, state con noi. Iniziamo con S-Max aziendali, sono vetture di casa Ford, hanno pochissimi chilometri, sono immatricolate nel 2016, vi ricordo garanzia ufficiale Ford fino al 2021, con prezzi a partire da 26.900 euro, come questo nero che vedete qui e quest'altro sempre S-Max di colore grigio, 150 cavalli e un 2.000 turbolise, è già un 7 posti, la vettura costa 26.900 euro. Passiamo sulle Ford Focus, 5 porte, sempre aziendali nella versione 1.500 euro, 6 plus, 120 cavalli, le vetture sono delle full optional, con prezzi a partire da 14.500 euro, abbiamo diversi colori, grigio scuro come vedete e anche nero, vi ricordo le vetture hanno tutta garanzia ufficiale Ford, 5 anni, 100.000 km, il primo tagliando lo faremo noi, quindi la ritirerete assolutamente tagliandata e pronta per le vostre ferie. Ancora una Ford Focus di colore nero, questa volta sempre nella Docu03, una vettura aziendale del 2016, la vettura ha percorso circa 30.000 km, la proponiamo a soli 14.350 euro. Ancora Ford Focus aziendali, vi ricordo vetture del 2016, ricordo vettura in garanzia ufficiale Ford fino al 2021, questa volta si tratta di Ford Focus Station Wagon, 120 cavalli, euro 6 nella versione plus, ne abbiamo di diversi colori, grigio chiaro e grigio scuro, con pochissimi chilometri, come per esempio quest'ultima grigio scuro con circa 20.000 km, con prezzi a partire da 14.900 euro. Bellissime queste CHR Toyota, sono delle vetture chilometri zero nella versione 1200, le vetture sono veramente molto molto accessoriate, dal climatizzatore automatico, al cruise control, le SP sono veramente molto belle, sono introvabili sul mercato dell'usato, le abbiamo noi qui all'Autos di Corso Savona 39 Moncalieri, con prezzi a partire da 18.900 euro, più chiaramente il passaggio di proprietà. Le abbiamo bianche, le abbiamo grigio chiaro, le abbiamo grigio medio, le abbiamo grigio scuro, veramente la possiamo far scegliere per colore e per modello. Mi sto fermo su questa grigio scuro, è una CHR 1200 Turbo, la vettura è veramente un full optional, è un chilometro zero e vi ricordo il prezzo, 19.100 euro. E dopo le CHR ecco un'altra sorpresa per voi, abbiamo delle Panda aziendali, sono delle 1200 Lounge, sono veramente molto belle, le vetture sono del 2016, hanno percorso pochissimi chilometri, anche qui vi facciamo scegliere anche il colore, grigio chiaro, grigio scuro, blu, veramente una bella opportunità di risparmio dal nuovo, le proponiamo a 7.900 euro. E proseguiamo con le Lancia Y aziendali, sono vetture 1200 nella versione Gold, sono delle vetture aziendali, sono vetture del 2016, hanno veramente percorso pochissimi chilometri, anche qui ve la facciamo scegliere anche per colore, quindi grigio chiaro, grigio scuro, nero, veramente una buona occasione, un buon risparmio dal prezzo di listino. Le proponiamo con prezzi a partire da 9.900 euro. E continuiamo con le novità per voi, abbiamo anche delle Mini Clam All 4 SD 190 CV aziendali, le vetture sono tutte immatricolate a dicembre del 2016, hanno percorso veramente pochissimi chilometri, sono delle full optional, sono tutte diverse l'un dall'altro, come vedete abbiamo anche diversi colori, bianco, grigio scuro, grigio chiaro, veramente molto molto belle. I prezzi vi invitiamo a scoprire qui, in corso Savona 39, partono da 29.900 euro, più chiaramente l'immatricolazione, sono ricordo vetture semestrali di dicembre del 2016, sono delle turbodiesel, sono delle quattro ruote motrici e vi aspettano qui in corso Savona 39 a Moncaieri ad Autos S.P.A. Panda dell'anno 2013 è una 1.2, benzina, la vettura percorso 58.000 km, la proponiamo a 6.900 euro. Ancora vetture aziendali qui ad Autos, abbiamo delle Toyota 1000 X-Play dell'anno 2016, giugno 2016 le vetture hanno un anno di vita, sono ancora in garanzia ufficiale Toyota, retrocamera, chemiotizzatore automatico e cruise control, hanno percorso circa 7.000 km e le proponiamo con prezzi a partire da 7.950 euro. Molto bella questa Seat Ibiza dell'anno 2010 è una 1.2 al quale è stato applicato un impianto GPL, la vettura ha percorso pochissimi chilometri, circa 50.000, la proponiamo a 6.900 euro. Ancora un'Ibiza, questa volta è una 1.6 turbo diesel dell'anno 2010, la vettura ha percorso circa 80.000 km e la proponiamo a 6.500 euro. Molto sfiziosa questa Mazda, è un turbo diesel 1.3, la vettura è anche adatta per un neopatentato, ha percorso circa 80.000 km e la proponiamo a 5.900 euro. Ford Ka dell'anno 2014 ha percorso circa 35.000 km e la proponiamo a 7.900 euro. Lancia Musa, 1.4 benzina, la vettura ha percorso pochissimi chilometri e la proponiamo a 7.900 euro. Ancora una Lancia Musa, questa volta 1.4 benzina e GPL, la vettura ha percorso circa 50.000 km e la proponiamo a 8.950 euro. Peugeot 108, molto bella dell'anno 2014, è un 5 porte col tetto apribile, ha percorso solamente 14.000 km e la proponiamo a soli 7.950 euro. Molto bella questa Citroen Cactus dell'anno 2015, la vettura è un 1.6 HDI, quindi un turbodiesel, ha percorso solamente 38.000 km e la proponiamo a soli 12.400 euro. Ford Focus dell'anno 2014 è una 1.6 con impianto GPL, ha percorso pochissimi chilometri e la proponiamo a soli 12.500 euro. Ford Focus dell'anno 2015, la vettura ha percorso pochissimi chilometri e una 1.5 Titanium, veramente molto censoriata, con sensori di parcheggio anteriore e posteriore, clima automatico e navigatori touch, la proponiamo a 16.650 euro. Ancora una Ford Focus con impianto GPL, la vettura ha percorso circa 70.000 km e la proponiamo a 11.500 euro. Ancora GPL per questa Ford Focus Titanium dell'anno 2014, la vettura ha percorso 47.000 km e un full optional e la proponiamo a 12.500 euro. Ancora un GPL, questa volta già il modello nuovo Ford Focus Restyling dell'anno 2015, la vettura ha percorso circa 69.000 km e la proponiamo a soli 12.000 euro. Ancora una Ford Focus Turbo Diesel full optional, la vettura è stata immatricolata nell'anno 2013, è un TDCi e la proponiamo a 12.900 euro. Ancora una Ford Focus, l'ultimo modello è un Turbo Diesel, ha percorso pochissimi chilometri, allestimento Titanium, sensori di parcheggio anteriore e posteriori, la proponiamo a 15.450 euro. Ancora una Ford Focus e una 1.6 station wagon 95 cavalli del 2014, pensate a un prezzo veramente molto molto conveniente, 9.900 euro. Molto bene amici, venite dunque a scoprire le super occasioni firmate Autos a voi dedicate per questa estate e questo potete farlo venendo direttamente di persona nelle 5 sedi proposte sul territorio piemontese, anche nella sedia da dove abbiamo trasmesso oggi naturalmente a Moncalieri in corso Savona a 39, oppure potete farlo comodamente da casa vostra con un semplice clic andando sul sito autos.it, un sito completamente rinnovato, completamente aggiornato dove non solo potrete ammirare l'intero assortimento autos e visionare le offerte del periodo ma anche prenotare direttamente la vostra auto o il test drive che vi ricordo è d'obbligo prima di acquistare qualsiasi auto. Vi ricordo assolutamente sì, Palma il test drive è obbligatorio, tutta la gamma Ford nuova è in pronta consegna, potete prenotarle quindi accedendo anche tramite il sito e vi ricordo potete prenotare anche una visita per le vetture d'occasione, soprattutto per le vetture d'occasione come abbiamo visto abbiamo chilometri zero multimarcha, vetture aziendali multimarcha, oltre a tutto il nostro prodotto Ford sia aziendale che rientro della Ford. Bene autos è da sempre il vostro punto di riferimento, la vostra concessionaria di fiducia a Ford come avete visto non solo per l'intera gamma con prodotti in pronta consegna ma anche per veicoli commerciali per l'usato, dovete approfittarne assolutamente perché le idee che autos organizza sempre per voi sono limitate al periodo e quindi approfittatene se volete acquistare una vettura proprio per andare in vacanza, ma autos è anche un punto di riferimento per la vostra manutenzione, infatti due officine per voi sia come centro assistenza sia come magazzino ricambi, una è a Torino Nord in Corso Grossetto 318 e una proprio qua in chiusura, ricordiamo ancora l'indirizzo. Corso Savona 39 a Moncalieri. Questo è il centro Ford Store a voi dedicato per i vostri acquisti, un centro Ford Store fornitissimo, quindi l'invito è di venire tutti numerosissimi proprio qui, ricordo ancora una volta io l'indirizzo Corso Savona 39, io ringrazio Mirko e tutto lo staff che sicuramente saprà consigliarvi al meglio come autos fa da oltre 50 anni, serve la propria clientela ai massimi livelli e soprattutto la fa sentire a casa. Vi ricordo assolutamente sì, vi ricordo seguiteci sia su Facebook che sul nostro sito autos.it. Un ringraziamento a Mirko, alla prossima. Ciao Palma e ciao a tutti quanti voi. E grazie a voi per essere stati ancora oggi in nostra compagnia, alla prossima.